Easy Go Easy Go Easy Go Easy Go Giusto per chiarire, Svartalfheim vuol dire terra degli Elfi Scuri, giusto? Giusto Ma tu hai detto che gli Elfi Scuri vivono qui ad Alfheim da molto tempo E poi, non sono i Nani che provengono da Svartalfheim? Non sembrano degli Elfi Scuri? È questo quello che pensi? Allora sei molto più perspicace degli Aesir Sono loro a non essere in grado di distinguerli E sono loro ad aver inventato quel nome I Nani, in realtà, chiamano la loro casa Nidavella Gli Elfi Scuri non provengono da Svartalfheim? Per nulla Sono solo Elfi con la carnagione diversa Nessuno sa chi è venuto prima Ma vengono tutti da Alfheim Perché combattono se sono della stessa specie? E' adorabile Il mondo funziona così Oh, beh, è triste Oh, beh, è triste Padre, mi guarda questo Oh, beh, è triste Oh, beh, è triste Oh, beh, è triste Lei è triste Eh, è triste Attraverte bene bene Ah, che ne sono la... bene. Alla prossima. 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 Ah Il tempio di Freyr L'anello è bello come me lo ricordavo Freyr Un dio vanir È il fratello di Freyr Freyr ha un passato con gli elfi Ed è uno dei pochi dei ben accetti qui Lassa Che posso fare per voi? Se hai bisogno di qualcosa sarò nei paraggi Altre campane Deve esserci una cassa normale Perchè? 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti